Ecco qua, ecco qua, questo qui è il mio baccala, ecco qua, ecco qua, questo qui è il mio baccala, ma che bello baccala, ecco qua il mio baccala, ecco qua, ecco qua, chi lo vuole il baccala? L'ho tenuto un bel po' a mollo proprio qui in della tinozza, ciò che non si fa col pollo o con la ciccia, se no puzza. Un bambino delle scuole oggi m'ha detto, ma cipole, portan classer baccalà per merenda per mangià? Caro bimbo, io non ho detto, penseranno sia un dispetto, ma poi vedan che la denti e ti rispettan sull'attenti. Vatta prende una cipolla fresca da mangiarci insieme, vedrai anche la maestra che davanti ti si sviene. E così sarà importante sulla bocca della gente, sarà emesso nella storia del paese con la gloria. Proprio adesso è stato il primo, grande omo d'un bambino. E sarà pubblicità anche per il baccalà. L'ho tenuto un bel po' a mollo proprio qui nella tinozza, ciò che non si fa col pollo o con la ciccia, se no puzza. Baccalà che viene dal nord, chi l'assaggia non se lo scorda. Lo prenota tanto prima, anche d'una settimana. Si fa numido anche fritto, il fotografo mi ha detto che lo riempie a marmellata e lo punteggia a mod d'arrosto. Poi ci struscia una ditata e ci festeggia il ferragosto. Il fotografo è mio amico, ma è da tempo che ne dico di imparare a star in cucina. Il baccalà gli è cosa fina, ma gli è duro e ne lo dio, vor fa tutto a modo suo. C'era un giorno un passerotto che cantava a lui vicino, lo chiappò e con penne tutto lo mangiò paruccellino. Ecco qua, ecco qua, chi lo vuole il baccalà. Ecco qua, ecco qua, questo qui il mio baccalà.